Un incontro interculturale a Palazzo San Giacomo per il progetto Time, rivolto ai giovani, che promuove la cittadinanza attiva, il pensiero critico e lo sviluppo di competenze sociali. Durato due anni, il percorso di scambi culturali ha fatto lavorare assieme ragazzi italiani, spagnoli, libanesi e giordani. Siamo molto contenti di aver ospitato la conclusione di questo progetto Time, che non solo ha avuto l'occasione di mettere insieme dei giovani della nostra città, di una periferia di Scampia, con giovani di altri paesi anche extraeuropei come il Libano e la Giordania. Time è un progetto Erasmus che utilizza la metodologia piedi-cuore-testa-mani per lavorare non soltanto con la conoscenza razionale, ma anche con le relazioni emotive. Vorremmo affidare ai giovani attraverso questo progetto il compito di curare la nostra società attraverso anche l'attenzione a un tema sostenibile come quello dell'ambiente. Quindi veramente ci auguriamo che questi giovani attraverso questo progetto possano sviluppare in maniera sinergica e coesa dei progetti ulteriori rivolti appunto a fare del bene a tutta la nostra città, ma anche agli altri paesi extraeuropei.